Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Oggi cercherò di portare un po' di lava a questo impianto qua Ovvero alla fornace con bella rossa Che mi serve un bel po' di lava Perché ne sono veramente accorto Non si vede nemmeno più quanta lava c'è qua dentro Perciò adesso ci craftiamo un pochettino di cose Vediamo qua, ci servirà molta molta energia proprio per questo eh Perciò ci servirà Il magma Crucible, eccolo qua Che si fa col nether brick Nether brick, nether brick, ok ho capito Poi ci serve il machine frame Ok, ci serve un po' di roba Nether brick si fa così, questo Ci serve un po' di nether rack Ci servirà 8 di nether rack Cioè ne dovremmo avere un pochettino Se non erro Un pochettino di nether rack Perfetto, 8 precisi, guarda 8 precisi, precisi A questo punto possiamo metterli qua dentro E ottenere i nether brick Vediamo un po' Sì, la me lo diceva di farlo con la minimum Ma posso farlo benissimo anche qui dentro Poi ci serviva della redstone Che riprendiamo subito Riprendiamo subito Una decina di redstone Vai Poi ci serviva del copper Copper, copper, copper Eccolo qua Riprendiamo una decina anche di questo Poi ci serviva dell'oro Dell'oro, dell'oro, dell'oro Ce l'abbiamo uno solo Beh, no ne prendiamo uno Vai Poi ne faremo dell'altro Poi ci prendiamo un pochettino di ferro E del vetro Che ne abbiamo uno solo Quindi ci prendiamo un po' di sabbia Me ne servono Eh, ne prendiamo cinque di sabbia Vai Vediamo un po' qui dentro No, non abbiamo niente Perfetto Allora, no, mica tanto Perfetto Però va bene Intanto cuoci quello Allora, noi ci serviva di fare Questo qua Ci serve un oro Del ferro Ok Aspettate un attimo Perché mi sembra che serve Eh, serve anche qua un oro E quindi ci serve la Minium Andiamo a prendere la Minium Stone Eccola qua Poi torniamo di qua Intanto ci facciamo il nostro bell'amico Uno E due Questa non serve Ok Questo è fatto Poi ci serve il Machine Frame Che faremo subito Intanto ci prendiamo il vetro Che abbiamo qua Andiamo di qua E ci prendiamo No, abbiamo qui In Etherbrick Perfetto Ci ha dato anche un po' di esperienze Mi devo fare un enchanting table Per poter usare questi livelli Dopodiché mettiamo qui la Minium E mettiamo il ferro intorno Almeno ci facciamo un oro Con quest'oro Che lo mettiamo qua nel mezzo E ci mettiamo il vetro Così E... no, la rezza Il ferro Cos'ha? E abbiamo il Machine Frame Poi col Machine Frame Beh, dopo facciamo un zecchio Un tanto Poi ci serviamo Ah, sì, giusto Questi qua Devo fare i Netherbrick Eccoli qua Uno qua Uno qua Un Machine Frame nel mezzo Questo qui Il copper E' questo Magma Crucible Perfetto E' proprio quello che mi serve Questo strumento Mi produce lava Consumando un fottigliardo Di energia Ora Io Lo vado a posizionare Da qualche parte Vediamo un po' dove Eh... Quasi qua Si scavo Un pochettino qua Facciamo uno scavettino qui Non mica tanto Tanto non serve molto spazio Per questo Poi è riuscissimo A scavare la terra Il drill Ok Ci siamo quasi O male Perché non ha finito Vai Qui tanto possiamo anche chiudermi Facciamolo pari Questo via Questo via Questo via E Tac Tac E tac Per ora facciamo così Ci mettiamo il nostro Bel Mario Mac Crucible qua Serve di portare I Minecraft Jowl Che si fanno Con gli engine Quindi Dello steam Perciò Torniamo di qua Perché abbiamo bisogno Dei materiali E parecchi materiali Avrò bisogno Dell'altro oro Ammi quant'oro Che consuma Magmatic engine No Non mi serve quello Mi servono Scriviamo engine Cos'è me lo troviamo tutti Vediamo se possiamo fare qualche altro Differente Magmatic Magmatic Cioè di steam engine Mmm Va bene Facciamo i lobby test Vai Quelli che avevamo fatto Classici No Potremmo fare anche questi Questi col cavolo Questi qui Ma servirebbe Di fare prima Un boiler Ma per ora Iniziamo con questi Quindi ci servirà Un popolino Di oro Ma non Di oro Noi ne abbiamo Nemmeno Beh Nemmeno a farla apposta Ci abbiamo dell'oro Va bene Ce lo dovremo craftare In qualche maniera Perciò Ci mettiamo la minima Qua E ci facciamo Due lingotti d'oro Ci servono Ben due lingotti d'oro Uno E uno due Poi Ci servono Degli stone Gear Ce ne servono Due Due stone Gear Perfetto Intanto Family Noi Nel frattempo Ci dovremo Craftare Qualcos'altro Ci dovremo Craftare Un pistone Perciò Mi serve Della legna E della coble Tacchete Ok E Dov'è 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 Ah Prendiamo questa Vai Ne prendiamo uno Per ora Dove Bastare La coble Abbiamo il ferro Abbiamo Perfetto Abbiamo anche il legno Che facciamo così Questo qua Questo qua Legno sopra E questi qua Perfetto Abbiamo il nostro bel pistoncino Adesso ci dovrebbero arrivare i gear Ma senza i gear non facciamo un kaiser Intanto ci trasmutiamo questi due Ok E ne abbiamo 18 Mmm Allora Mi avrei fatto tutto Eccoli qua Ecco un gear Ma ne manca un altro Speriamo che me lo stia facendo Perché non lo so Siccome avevo un po' poca legna Riguardo A lock So che non so qual è Vediamo un po' Eh no Mi sa come lo sta facendo Oddio Mi sa che ho finito la legna Ho finito quella legna lì Che mi serve a lui E non me l'ha fatto Va bene Perfetto Siccome è un po' lento Mettiamo questi E poi mettiamo Così 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 Sì Perfetto E ne abbiamo due Perfetto Uno qua Uno qua Uno qua Questo qui E tre di qua Perfetto Per uno L'ho dovuto usare due lingotti Per un nugget Pensateci Per un nugget L'ho dovuto usare due lingotti Dove invece che uno Poi Dove avrei fatto questo Ci servono degli Dei pipe Vediamo un po' Ce ne abbiamo ancora Questi sì Poi mi mancano Dei pipe Di legno E mi manca anche Del vetro Perciò Ci prendiamo Un altro po' di sabbia E devo andare A prendere Dell'altra di sabbia Comunque Anzi Prendiamoci un po' Di cobblestone Ok Ci prendiamo un po' Di cobblestone E magari Ce la Masceriamo Così Ce ne abbiamo Un pochettino Più di Di sabbia Da poter usare Poi per Fare altro vetro E visto che la cobblestone Ce l'ho in quantità assurda E' meglio fare così Intanto Spendiamo questo E vediamo un po' Ci serve Dell'altro legno Ma che basta Uno di questi Che ci facciamo Ben otto pipe Con due pezzetti Legno E uno di vetro Perciò mettiamo Uno così E uno così E questo qua Nel mezzo Abbiamo quelli di legno Che ne uno Trasmutriamo Per Per energia 9 joule Per T No Non mi T Va bene E ci trasmutriamo Un paio di questi Ne facciamo tre Per ora Vai Adè Vieni qua Adesso Scendiamo giù E andiamo a posizionare I nostri bellissimi engine Uno Un solo engine Di questi Chiaramente non mi basterà Ne serviranno degli altri Ecco fatto L'ho messo sotto Proprio Dove non doveva Mettersi questo Doveva mettersi quest'altro Maledetto mouse Poi Uno di questi E mettiamo sopra Il nostro bellissimo engine Questo engine Funziona con Il carbone E l'acqua L'acqua Si può portare benissimo Con i secchi Oppure facendo Un aquelus accumulator Che per quello Servirà dell'altro oro Perciò Vediamo un po' Accumulator Vediamo un po' Eccolo qua Serve Eh si Serve dell'altro oro Dell'altro ferro Dell'altro vetro Ne serve dell'altra roba Bella Tosta Perciò Vediamo un po' Vetro ce ne abbiamo Due soli Prendiamo Del sabbio Da qui E la mettiamo Di qua Ci rendiamo Dell'altro oro Così Trasmettandocelo Eccolo qua Un lingottino d'oro Ma a me non costano Questi lingottini d'oro Poi Mi serve il vetro Famoso Ma Intanto ci Possiamo fare Questo qua Che si fa? Mettendo questo E questo Mettendo questo In mezzo In mezzo E mettendo i due vetri Qua Eccolo qua Perfetto O qui cos'è La tin Serve la tin La tin 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 Ce ne ho tanta Di tin Non ho pensato Di cene di più E me ne dai due Poi Servia di farci Anche un secchiellino Vero Un altro secchiellino E altri due vetri Dopotutto Tanto vetri Come se Non avessimo Già abbastanza Di vetri Perfetto Quindi Ora Dobbiamo craftarci Degli altri vetri A me che parli Sti vetri Oh Ne servono troppi Ne servono Allora Dovevamo rimasti Avevamo rimasti A fare Machine Frame Il solito Machine Frame Che si mette questo Che si mette Questi qua Ne avanza uno E il No Il ferro Eccolo qua Poi abbiamo il secchio Abbiamo tutto Abbiamo il secchio Da mettere sopra No non abbiamo nulla Perché manca un vetro Perfetto Adesso ce l'abbiamo Machine Frame Nel mezzo Vetri Vabbè Eccolo qua Così Poi questo va sopra E questi due tin Vanno qua E abbiamo Il nostro bellissimo Accuso Accumulator Pronto per l'uso Ma Mancherà di fare Il Avremo un secchio Qua giù Sì perfetto Lo usiamo adesso Per il trasporto Dell'acqua Dovevamo Trasmutarci Anche dei Cactus Ci dovrebbe avere Abbastanza di Cactus Qua giù Eh però Perché dobbiamo Farci almeno Un paio Di Almeno Un paio Di Cosi Insomma Di Pipe Per liquidi Eccoli qua Li mettiamo qua Dentro Intanto qui Continua A macerare Mettiamo un paio qui dentro Aspettiamo che Vengono cotti Perfetto Tanto uno Ve lo mostro Questo mettendolo qua Utiliamo Ripart La modifica per liquidi Che con un legno Lo facciamo diventare per liquidi Così Questo va via Per il momento Poi Ecco le altre due E facciamo Sì Per ora Uno solo Per liquidi Anzi Lo facciamo tutti Per liquidi Vai E Uno E Uno due Adesso Che lo abbiamo Andiamo a posizionare Il nostro bellissimo Accus Accumulator Dietro Il nostro Engine Ah Mia Scaviamo Scaviamo Poi Passare Così E così Mmm Non mi pensare Un attimino No Ancora uno Perfetto Mettiamo qua Il nostro Accus Accumulator Che funziona Perfettamente Non ha bisogno Nemmeno di energia Ora mettiamo Uno di questi E uno di questi Per poter portargli L'acqua Dopodiché No Facciamo così Mettiamoli dopo Prima andiamo a prendere L'acqua Che chiaramente Quando ne ho Poco male Usciamo fuori di casa Anche se E' notte E prendiamo l'acqua Che abbiamo qua Ho messo Ho sbrangato La porta Oh cavolo Via 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 Chiudi Testimono di Geo Non ti si vuole Non ti si vuole Non ti si vuole Non ti si vuole No Ho rotto la spada Oh Mi ha dato anche un'altra testa Bene Perfetto Vai lì Dai su Mangia 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 Posizioniamo Ah Monta La Cobblestone Mettiamo qui la Cobblestone Perfetto Mettiamo l'acqua E poi subito due Cobblestone Per evitare che ci vada tutta a giro Che ce n'era già andata Il giro del resto Ci stanno già accumulando acqua A una velocità Infima Però Se mettiamo anche il secondo secchio La velocità aumenterà di molto 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 Perciò andiamo qua Ci prendiamo un altro secchio d'acqua Entriamo di volata in casa E tappiamo la porta E posizioniamo subito il secondo secchio Posizionando il secondo secchio E subito la Cobblestone qua Non qua però Perché devo posizionarla Qua dietro Perfetto L'ho messo comunque uno in più Anzi no no Qui va bene E' di qua che volevo posizionarli un altro Di modo da poter espandere la quantità di motori Adesso Da questa accumulata ci produrrà molta più acqua Che andrà a finire tutto quanto nei nostri bellissimi engine Quando metteremo il carbone e sopra una leva Partirà Perciò andiamo subito a prenderci Del Uno stick Devo prendere la chiave Eccola qui Ci prendiamo uno stick Che non abbiamo Quindi ci prendiamo due di questi Qui che facciamo prima E del coal Vediamo un po' quanto ce ne abbiamo Ce ne abbiamo un po' Quindi prendiamo Facciamo sei Vai sei di carbone Per vedere un po' come funziona all'inizio Ok facciamo gli stick Mettiamo gli stick qua E ci prendiamo sotto la Cobblestone E abbiamo la nostra bellissima leva Adesso mettiamo un po' di roba da parte Perché se no qui Ci siamo riempiti completamente Direttamente Ok Allora Andiamo a mettere La Sì la Cobblestone Il coal dentro il motore Come vediamo non funziona Perché adesso non parte Perché dobbiamo semplicemente accenderlo Adesso funziona La temperatura sta già salendo E sale velocemente Appena arriva a 100 gradi Comincia a produrre vapore Producendo vapore Mi porta energia a questo coso Quando ho abbastanza energia Cioè mi chiede 20.000 di energia Per trasmettare una Cobblestone In 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 mila di lava Che poi potrò usare qua dentro Mila di lava Sono praticamente un secchio di lava Perfetto Mettiamo forse anche il vetro Perché gli stick come un cartono Perché forse non li ho messi giù Ho ricominciato a piovere Ma è possibile che ricominci sempre a piovere Questo Minecraft Cavolo Cavolo Arr Cavolo È un'edizione Va bene Allora Ricomincio a tutto a piovere Come al solito Chiaramente Perché mi deve sempre piovere Quando registro E se piove Mi metto a laggare il mondo Maledizione Va bene Quindi vi dico che anche per questo episodio È praticamente tutto Dovrò semplicemente aspettare Che il motore Abbia caricato tutto Maledizione Oh Ma è un lagga Quando piove Lo possiamo vedere Adesso è a 300 gradi Adesso è a 300 gradi Quasi E mi sta producendo vapore Chiaramente Rimane stabile a questo livello Adesso Perché Ci ha da caricare Il Il macchinario Non produce Tammite poca energia Che prima che arrivi a 40.000 Che è il massimo Nel 10 grande secoli Come ciò Vi dico che Anche per questo episodio È tutto Probabilmente off camera Metterò altri engine E ci vediamo Nella prossima puntata Ciao a tutti